Le scuole al tempo del coronavirus con lo stop fino al 15 marzo. Gli istituti scolastici della nostra regione si stanno organizzando per le lezioni a distanza. In questo senso un grande aiuto arriva a studenti e professori dalle nuove tecnologie. Andiamo a vedere quello che accade in due scuole simbolo di Pescara come il liceo classico Gabriele D'Annunzio e di liceo scientifico Leonardo Da Vinci. La scuola che entra nelle loro case, nelle loro camere. Quindi non li lasciamo soli, noi siamo con loro e loro sono con noi. I nostri professori hanno dato dimostrazione di una grande preparazione e soprattutto di un grande coraggio ad affrontare questa nuova sfida che speriamo termini al più presto. Una sfida che si può vincere anche grazie alle nuove tecnologie. Sicuramente come scuola è proprio su questo che stiamo puntando. In questo momento stiamo scoprendo un universo che è quello appunto delle nuove tecnologie, questa formazione a distanza che non è solo utilizzare le piattaforme messe gratuitamente a disposizione ma significa programmare appositamente tutto il percorso formativo e permettere ai ragazzi di interagire perché ovviamente oltre alla spiegazione c'è poi la parte di verifica, c'è la parte di consolidamento quindi sono passaggi delicati e importantissimi. I ragazzi non vanno abbandonati perché la scuola è il legame con la vita e i ragazzi hanno bisogno di studiare, hanno bisogno di sentirsi parte di una comunità per cui prendiamo contatto, già tutti i professori hanno preso contatto con i ragazzi. Per ora così informalmente, whatsapp, email eccetera, ma abbiamo predisposto le classi virtuali con Spaggiari, Classflow con Promethean, c'è Google Classroom, dopo abbiamo dei professori che stanno lavorando in team per predisporre tutte queste cose, già ci hanno chiamato tutti, sono tutti molto infermi. Si parla già di possibilità di, stanno studiando se fare l'esame di Stato in un altro modo, ma non importa, noi dobbiamo essere pronti, la scuola è la scuola, certo non si può fare scuola abbandonando i ragazzi dietro a un computer, però c'è un modo di creare comunità virtuali che sono altrettanto reali, i ragazzi sono abituati e quindi continuiamo a essere una scuola unita, coesa, che insieme fa un laboratorio di pensiero. Voi avevate questa tecnologia, l'avevate già acquistata in precedenza? Sì, la utilizziamo già da vari anni, in più utilizziamo anche altre tecnologie come Promethean Classflow e Google Suite, abbiamo varie possibilità. Quindi ogni insegnante utilizza poi quella che più è attinente al proprio modo di fare, al proprio modo di sviluppare la didattica.